La sospensione dei bonus ha messo in difficoltà i condomini e soprattutto ha messo in cattiva luce la figura dell'amministratore. Lo chiediamo a Sabrina Nanni. Diciamo che oggi con questo pure stop alla cessione del credito si sta creando molto scompiglio all'interno dei condomini, all'interno di chi effettua i lavori. Anche gli amministratori si trovano in serie difficoltà perché giustamente si ritrovano con dei lavori approvati però era un conto che prima l'ha ditta e metteva fattura con lo sconto in fattura e il condomino non pagava nulla. Oggigiorno non è più così con queste nuove normative e ciò significa che il condomino dovrà corrispondere l'intera somma e la scaricherà poi in dieci anni. La figura dell'amministratore è già di suo molto difficile e con queste nuove norme, con queste sospensioni lo sarà ancora di più? Beh, diciamo che oggigiorno è tutto un caos sia un po' con le cessioni del credito, sia anche con la sicurezza nei condomini che oggi è molto importante e poi soprattutto anche con l'aumento di queste bollette che la gente non arriva a fine mese. Per esempio prendiamo anche la fattispecie del pensionato che adesso si troverà a corrispondere cifre iperboriche per pagarsi lavori di un bonus approvato e poi giustamente non potrà scaricarselo.